Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Come al solito oggi analizziamo le vostre squadre Quindi lasciate 1500 like per un altro episodio Iscrivetevi al canale e commentate con il link della vostra squadra per farne parte E non dimenticatevi di commentare con il nome del prossimo ospite Stasera poi sarò live sulla piattaforma viola Basta che cercate Insa E stasera proviamo Ashley Call in diretta, in live e forse anche BlankMid Per darvi dei consigli sulle swaps E domani invece pomeriggio verso le 16-16.30 farò le vostre squadre E vi ricordo anche che se vi abbonate cliccando su Abbonati Fianco a Segui Se scendete potete abbonarvi gratuitamente cliccando Inizia la prova gratuita se avete il Prime Non dimenticate poi che le farò anche su Instagram Probabilmente mercoledimattina o domani Comunque vi avviso nelle storie come al solito Basta che cercate Nicola o Mira Mi seguite perché qua condividerò una decina delle vostre squadre Mentre il giorno in cui vi dirò di taggarmi nelle storie con la vostra squadra screenshotata Il budget e tutte le info Quindi seguitemi e cercate Nicola o Mira E infine vi invito a cercarmi anche su TikTok Perché qua al momento sto facendo sia le review in un minuto delle swaps Che di il Sharawi, che del Nigno Barigol, Barimeme Ma a breve inizierò anche a fare le vostre squadre Quindi cercate Nicola o Mira Sia per i consigli attuali che per quando farò le vostre squadre Ma adesso andiamo a guardare prima Zinchenko ed Erman Le due carte showdown Andiamo a vedere come sono E poi iniziamo a fare le vostre squadre Allora gli showdown che hanno reso disponibili questa volta sono Erman Che è questo qua che vediamo qui E Zinchenko Questi due sono i due che sono disponibili In pratica quando giocheranno contro Chi vincerà Farà diventare la propria carta un più due Quindi Erman diventerebbe un 88 Zinchenko diventerebbe un 87 Qualora ci fosse un pareggio Diventerebbero tutti e due più uno Quindi 87 e 86 E non diventerebbero ufficialmente niente di più Niente di meno Quindi se invece uno perde Rimane con le statistiche che leggiamo Questa carta è sbloccabile fino al 24 Quindi fino a mercoledì Costa 150.000 Erman 4 di skill 3 di piedevole È sicuramente un'ottima accelerazione Con una velocità scatto decente Poi a livello di tiro Ha un buon posizionamento Ma poi il resto delle statistiche del tiro Non so niente di che Nel senso che è un buon finalizzatore Ma nella norma Non è niente di incredibile O di necessario Una potenza tiro normale Un tiro a distanza normale Tiri al volo e rigore un po' peggio La visione invece è ottima Ottimo anche il passaggio corto Ottimo anche l'effetto Ottimo il cross Male passaggio lungo E probabilmente anche il filtrante Di conseguenza E nel dribbling leggiamo che non è molto agile Non ha un gran che di equilibrio Una composure terribile Scarso fisicamente Ed è pure un 3 di piedevole Questo qua ragazzi Per me anche qualora diventasse un 88 Anche a 50.000 crediti Ve lo sconsiglierai Perché onestamente Sì magari non abbiamo grandi alternative In quella fascia del campo Per la Bundes E siamo tutti d'accordo su questo Ma d'altro lato Comunque anche prendendo più 2 Effettivamente rimarrà con un equilibrio terribile Rimarrà con 3 piede debole Rimarrà con poca agilità Poca composure Scarsa forza fisica E non eccellendo alla fine in niente Quindi secondo me Questa in ogni caso è un no Zinchenko invece Discorso diverso Costa anche il doppio Un 3-3 La velocità è buona È un 92-89 Quindi molto bene A livello di dribbling Non è proprio agilissimo Ma neanche poco agile A livello difensivo È un giocatore nella norma Non è di certo un Toti Ma non è neanche scarsissimo Fisicamente è scarso In forza fisica Bisogna vedere se Vincendo il più 2 Gli dà un po' più di 2 in forza fisica Perché al momento è un po' scarso fisicamente Ottima stamina Un'elevazione decente Per un giocatore che comunque è basso Già di suo Quindi diciamo che è un giocatore che corre È bravo nei passaggi Anche i filtranti andrebbero a essere male Buona visione Insomma è un buon terzino Nel senso che corre Un buon passaggio Un dribbling decente Una difesa decente Scarso fisicamente Ora per me non vale mai 329.000 crediti Perché onestamente a quel punto Uno può andare su Robertson E secondo me è migliore Perché Robertson e il Toti Sicuramente costano decisamente di più Però è decisamente anche più forte In difesa, dribbling e in alcune caratteristiche Quindi personalmente Anche per mancanza di link Veramente interessanti Perché effettivamente Perfect link non c'è niente Niente Strong link Alla fine magari Waker difensore centrale Volendo E magari KDB Toti Però veramente Stiamo parlando di casi estremi Di chi è veramente la squadra ideale Perché poi tutti gli altri O magari chi ha fatto Aguero Ma poi tutti gli altri Sono giocatori che non consiglio Quindi non so Secondo me anche lui è bocciato Se lo fate Però lui non è scarso Insomma Sperando che vinca il Manchester City Sicuramente potrebbe diventare molto interessante Ma rimane come un conterzino Normale Niente di incredibile E per me a questo prezzo Mettere via un po' Aspetterei per Robertson Toti Honorable Mention Prima squadra invece Allora Per quanto riguarda questa squadra Dove abbiamo 300.000 crediti di budget Una squadra dove secondo me C'è un problema alla base Wijnaldum, Tonali, Jones Secondo me non va bene Perché comunque Tonali usato come trequartista Sa sì impostare Passare i palloni Ma c'è Runei Che può fare solo trequartista Dibala Che può fare solo trequartista E hai poi Jones E Wijnaldum Al centro campo Senza effettivamente Neanche avere uno Che difenda bene Quindi secondo me I crediti spesi su Wijnaldum Li eviterai Su un 700k Che recuperiamo E andiamo quasi A un migliore di budget Dopodiché Abbiamo Tonali Che comunque può giocare In mediana Quindi mi sposterei Magari cambiando modulo Così cerchiamo di dare Un senso A questa formazione Perché comunque A livello di intesa Secondo me Possiamo cercare Di trovare una soluzione Magari mettiamo Tonali qui Cerchiamo di andarci A prendere Leviamo Kleiber Purtroppo bisogna Secondo me Qua levare Kleiber Qua potresti mettere Tranquillamente Diogo Dalot Che da intesa Tonali E poi per chiuderla Dato che comunque Runei ha bisogno Di essere chiuso Da qualcuno Che Le opzioni Sono varie In un certo senso Potremmo puntare Un'icona Ma qua io punterei Tanto alle varie Van Dijk Non subito Magari mettendo via Gli swap Nel frattempo Puntare magari A Blank Mid Che ovviamente Non scambia via Dagli swap Così ti chiudi Intanto questo lato Che semplifica Tutto quanto Poi ti manca Un giocatore Perché comunque Hai ancora un milione Quasi investibile Abbiamo Tonali Giants A centrocampo Di bala A spalle di Ronaldo E abbiamo Orune A spalle di Ronaldo Che comunque Secondo me Qua il problema Alla base È il fatto che hai Due trequartisti Quindi prima cosa Che ti dico Secondo me Dovresti giocare Con il 4-2-2-2 La soluzione Semplice Lasciando a Runei Un pochino Off-cam È quella di mettere Ovviamente Rashford 86 E giocheresti Con Rashford E Ronaldo Davanti E di bala Runei alle spalle Oppure Bisognerebbe puntare Un'icona O vendere Ronaldo O panchinare Runei E cambiare un po' Lo stile Però non vorrei Cambiartela troppo Già così comunque Ci vorrà tempo Per bloccare Blank Ci vorrà un mese Però insomma Nel frattempo Puoi comunque Mantenere Van Dijk E mettere Alisson In porta E lasciare Di bala e Runei Off intesa Però punterei Comunque A un cambio Di questo genere Invece La squadra di Chippen In game Gioca con il rombo stretto Quindi 4-3-1 Ho come budget Un milione Ovviamente Non Ovviamente no Perché non so Chi utilizzi Tra tutti questi Come CCS O CCD Nel senso Herrera e Siedorf Sicuramente Stanno in fond Cioè Nella zona Dei centrocampi Felix sicuramente O Di bala Fare un altro quartista E l'altro Fa la punta E uno tra il Charao E Ronaldo Verrà sprecato Come CCS O CCD Quando gioca con il rombo E quando gioca 4-3-1 Ovviamente farà l'esterno Allora Io qua Con un milione Farei un singolo investimento Al momento Dato che Come difessori centrali Le tue opzioni Qua sarebbero O levare Gosens E mettere Jimenez O poco altro Oppure mettere Magari qualcuno Dalla Premier Perché io onestamente Leverei Herrera Perché Herrera Non mi piace E lì Di opzioni Comunque abbiamo O Gliorente Che potrebbe essere Una soluzione O andare su un'icona Probabilmente L'opzione migliore Potrebbe essere Gliorente Nella versione Questa qui Che può fare Il mediano E in quel caso Potresti fare così Levare Gosens E qua potremmo E qua potremmo andare Magari a mettere Joe Gomez O qualcosa del genere O Jimenez Se vogliamo Se vogliamo andare a mettere Uno della Della Liga Nel definitivo Altra alternativa Sarebbe mettere un'icona Occia Allora Direi che Hullet Per il momento Lo lasciamo Marchinho Sanche Visto che Da anche In tesani Mar E Occia Un po' Fan Lo lasciamo Con 2 milioni E mezzo Si possono fare Varie cose Messi non è che Mi faccia particolarmente Impazzire Lo leverai quasi Ma per il momento Te lo lascio Kimbenpe Non ne sono Un fan Sfegatato Però posso capire Che uno Voglia utilizzarlo Sicuramente Leverai Rashford Sicuramente Leverai Semedo Farei un investimento Più che altro Magari mettendo CR7 Che potrebbe essere Un'opzione Mettendo la versione Normale Con Con Dalot In difesa Scusatemi Non importa E personalmente Leverei Kimbenpe Perché non ne sono Un fan C'è lì Mendy Ti metti Un banalissimo Varan Che dà anche Intesa con D Poi importa Metterei Courtois O Black Scusa Sennò Il maestro Si arrabbia E poi Aspetterei In questo caso Di investire In altro Appena ci saranno Più crediti Magari le varie Gullito Le varie Ococia E mettere Giocatori più Interessanti Con più budget Se invece Vuoi fare un investimento Un po' più esotico Potresti andare A mettere Una punta Icona Per dire Mettere Torres O che ne so Hernan Crespo Moments Anche se vedo Che hai qua Il baby Mid Scusa O andare a mettere Che ne so Un giocatore più fan Io ho soltanto L'ho fatta meta Però insomma Se vuoi divertirti Io puoi anche puntare Su tanti altri giocatori Poi abbiamo Questa di Riccio Che è praticamente Piena di giocatori Non scambiabili Tranne ovviamente Quelli che vediamo Scambiabili A Jones In panchina James Scusate James In panchina Che è veramente Uno spreco Rashford Agliorente A vari panchinari Molto interessanti Ma suppongo Che se non li utilizza È perché O ha un'alta rosa Di premier O probabilmente Vuole giocare Fanno Quindi basandomi Sul fatto che Stia giocando Con una serie A Ti direi che L'unico cambio Nel breve Che mi viene in mente È levare quelli Vali per Gosens Che comunque Il suo lo fa benissimo Manolas Incomincia Probabilmente La difesa ideale Se bastoni rende Ma non l'ho ancora provato È bastoni Gosens Al momento in serie A Tra quelli Diciamo Scambiabili Attualmente presenti Sul mercato Se no potresti comunque Tentare di andare a fare Una difesa Di premier In qualche modo Magari sistemando Un po' l'intesa E cercare Magari di mettere Che sia James Che Wall Che ero Alte robe Però insomma I primi due investimenti Che farei in questa Sono loro due Il centrocampo va bene Muriel magari Se riesce a mettere La versione Champions League Meglio perché Se viene appato Almeno ce l'hai già Ternandez pur ovviamente Andrebbe appato Le altre versioni Ti assicuro che è un altro giocatore Perché già dalla 83 Senta differenza Io mi muoverei In questo senso Allora Per quanto riguarda questa 100.000 crediti I budget Abbiamo Pop Gomes Wambisaka Der Milita Mendy Casemiro Mbappé Pogbar Ashford Dembele Primi cambi che vedo Allora Casemiro indubbiamente Non può circolare Al momento Quindi C'è al momento In qualunque momento Di qualunque FIFA Non ha mai Ovviamente Non te lo puoi permettere Volevo mettere Valverde Che almeno è semplice Per l'intesa Senza variare niente Così lo tieni Ovviamente mettendo Valverde Pogba non va più bene Quindi qua ci andiamo A inserire Kanté Se è leggermente fuori budget Però vendendo Pogba Recuperiamo Quindi dovremmo farcela Così come Wambisaka Lo leverei E metterei Kyle Siamo sempre Leggermente fuori budget Ma leverei anche Rashford Mettendo possibilmente Bamba Ora Qua sicuramente Siamo sforati Col budget Ma da qui in poi Ti direi che Il prossimo upgrade Quando avrai di nuovo budget È quello di Appare Biodare All'IF Perché la versione base Non può Oggettivamente Circolare Quindi Mettendo la versione IF Avrai raggiunto Una sorta di squadra Utilizzabile E te la cavi Alla grande In questa Che è una squadra A 700.000 crediti Abbiamo Neuer Boateng James Varane Mendy Marquinhos Puskas John Daglish Tavernier E Neymar Io personalmente Qua non vedo cambi Con 700.000 crediti Scontati In senso che Il centrocampo è buono L'attacco è forte Non ci sono grandissimi Cambi che possiamo fare Per effettivamente Migliorarla In difesa Sai Magari Varane Boateng Incominciano ad essere Un po' superati Quindi Le cose sono due O andiamo a toccare Il lato sinistro Quello di Varane Magari cercando di andare A inserire il nuovo difensore Che ora mi sfugge Come si chiama Quello dei future stars Che è uscito recentemente E magari cambiare il terzino Nel tempo Inserendo Davis Cioè Un'opzione è questa Quindi Levando loro due Qua cerchiamo di andare A inserire la Come si chiama Tsubasa La Top Sabat Questo qua Tab Soba Che poi cercheremo Di andare a inserire Però ovviamente Non semplicissimo A livello di intesa Se hai fatto sync Graven Che qua non vedo Sei a posto Se non l'hai fatto Dovresti sicuramente Metterlo di qua Mettere di qua Davis nel tempo Toti Ovviamente per adesso Questo Dovresti Probabilmente cambiare Il portiere Per avere l'intesa Mettendo Ceradeci Fare cose Non mi ispira tanto Ceradeci Piuttosto cerai Tab Soba Fuori intesa Però insomma Questa è un'opzione L'altra opzione Le varie Boateng Che secondo me Incomincia ad essere Un po' superato E al posto di Boat Magari inserire un'icona A quel punto Che potrebbe avere Comunque senso Un Campbell Baby O qualcosa del genere Importa mettere Courtois Spero ragazzi Questo video Vi sia piaciuto Ci vediamo Nel prossimo video Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi E attivate le notifiche Ci vediamo più tardi Sulla piattaforma viola Trovate il link Nei commenti Passate in particolare Perché adesso ci sono I pacchetti gratuiti Col Prime E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao